Siamo al liceo scientifico Alfano da Termoli, sta per scadere il tempo, giusto? A disposizione per la seconda prova, matematica, com'è andata? Abbastanza bene, il problema è sempre il problema, perché la parte più difficile e i questionari erano un po' più facili, però comunque nel converso era tosto. E' un'ottimista? Sì, sì, no. E' un'ottimista, ma vi aspettavate qualcosa di più complicato o di più semplice? No, nessuno delle tue, va bene. Era troppo complicato. Era troppo complicato? Sì, no, era bello tosto. Vi sentite sollevati? Santissimo. Questa era la prova delle prove. Sì, tutto tecnico Boccardi, seconda prova, di che cosa si è trattato? Allora, informatica, abbiamo prima fatto un tema introduttivo sul web 1.0 e 2.0, successivamente ci hanno dato dei dati a disposizione da elaborare per svolgere appunto il problema di informatica con linguaggio SQL, creando la pagina web. Andata bene. Quante ore hai impiegato prima di consegnare? Nove, a lunedì, dieci, quattro ore. Difficile? No, facile. Ottimista? Certo, 15. E l'anno prossimo? L'anno prossimo vediamo. Difficile questa seconda prova? Ma, nell'esercizio abbiamo trovato qualche difficoltà, però dal punto di vista dei punti di teoria noi abbiamo avuto grandi problemi. Qual era l'argomento? L'argomento era i siti tradizionali, i siti online che adesso vanno di moda e poi dovevi parlare dei voucher, di due tipi di voucher in particolare e poi c'era un esercizio su l'itinerario riguardante la città di Vienna, con tutti poi le varianti nel pacchetto turistico. Quindi social network anche? Sì, anche. Che sono? Come le agenzie di viaggi che si stanno sviluppando sempre di più sui siti e non quelle tradizionali, anche se si stanno unendo in siti, cioè praticamente le prime il contatto viene fatto tramite internet, mentre poi il pagamento viene fatto anche per le ragioni di sicurezza nelle agenzie tradizionali. E ieri invece che... Luca Rossetti, uno studente del liceo scientifico di Termoli, particolarmente gettonato, la matematica a quanto pare è la tua passione? Sì, farò matematica dopo... Ah, dove? Hai già deciso? A Roma. E quindi il sogno nel cassetto, come si dice, qual è? Diventare? Professore. Ah, professore. Sì. E oggi com'è andata la prova? È andata bene. Più facile o difficile delle previsioni? Forse è un po' più facile delle previsioni, però... Lo dici tu perché sei tu? No, era ostica comunque così. Era ostica. Come pensi che sia andata in generale anche per i tuoi compagni? È andata bene, è andata bene. Cosa si prova a fare questo esame di maturità di cui... Secondo me più andiamo avanti più ci sentiamo liberi. Finisce... Comunque, per l'università... Sì. Eh, io vorrei provare adontoiatria a Chieti, per testo d'ingresso. Speriamo bene. E tu? Eh, a me è complicata la cosa. Io e lei siamo un po' complicati. Lui per la musica, io per il teatro. Ah, volete qualcosa di artistico? Il dance o qualcosa, sì. Non pensavo più a un'accademia teatrale a Roma. E tu? Io sono arrivata su economia. Adesso devo vedere più il settore specifico, però... Come stiamo a me l'ho deciso. Speriamo bene. No, pensavo peggio, sinceramente. I professori sono stati anche abbastanza... Diciamo bravi, ci hanno... Ci hanno aiutato. Ci hanno permesso di copiare? No, no, però comunque se chiedevamo qualcosa ci aiutavano. Non è che sono stati... Troppo rigidi, diciamo. Quindi siete attimisti? Sì. Speriamo bene. Andiamo al 10. Oggi, speriamo. Ci speriamo. Ci speriamo. E i controlli invece per quanto riguarda i telefonini, i palpari? No, sono stati rigidi. La prima cosa che ci hanno chiesto è che ci hanno preso i telefonini, tutti sulla cattedra, spenti. No, no, anche la prima cosa che hanno detto proprio in commissione, che non ammettevano assolutamente telefonini, anche perché non avevano stati problemi l'anno scorso. Sì, infatti. Anche per chi ha frequentato il corso serale qui all'IT5 Cardio Ragioneria, oggi la seconda prova, quella tecnica, come è andata? Diciamo bene, poteva andare meglio, va bene. Sentendo un po' i pareri è stata una traccia inaspettata? Traccia inaspettata? No, forse, secondo me, lo si aspettava l'itinerario, perché in un corso turistico non si può mettere il milagio, il budget o quant'altro. Il corso turistico è per i turisti, quindi noi dobbiamo portare, almeno chi, come lei, andrà avanti. Io il mio corso turistico lo farò lungo la corsia dell'ospedale. Ottimiste per il risultato finale. Difficile, dipendendo dai punti di vista, diciamo, per me è stata molto difficile, perché la matematica, e sono proprio negata per la matematica, quindi... E come mai? Hai fatto lo scientifico? Eh, purtroppo. Perché pensavo che man mano, quel tempo, sarei migliorata. Non esagerate che senti a piano, ma che piano fai? E quindi l'anno prossimo che cosa farai? La sculenza, molto probabilmente, o a Perugia o alla Luister. Vuoi diventare avvocato? Sì, magari giù, dice Maglio. Giù, dice. Cosa avete scelto come traccia di italiano? Allora, io il secondo saggio breve, perché sinceramente le altre tracce non mi piacevano. Appena ho visto il compito, sono andata un po' in panico. L'analisi avrei già detto, cioè, avevo già detto che non l'avrei fatta. E poi, comunque, tutto sommato, poi scrivendo, scrivendo, sono venute fuori le idee, ci siamo tranquillizzati un po' tutti. Era, diciamo, la prima prova, il primo impatto emotivo. Siete ottimisti anche su questo, insomma. L'importante è che è andata. Sì. Programmi per l'estate? Grecia. Grecia. Rodi Gargani. No, noi andiamo a col fu. E ieri invece che traccia avete scelto? Io ho la tipologia di, quella sui social network, quella di Nero. Sì, quella di Nero. No, io scelto quella di Saggio Breve, l'ambito tecnologico, il Saggio Breve. Io invece ho fatto il Saggio Breve, letterario artistico su Amore e Odio e Passione. E com'è andata ieri? Penso bene, anche per te. Cioè, perlomeno per me non ho mai avuto difficoltà a scrivere, quindi penso che non mi erano abbastanza... Sì, l'italiano era la prova o meno... Problematica. Eh, sì. Sì, e per l'anno prossimo avete già qualche idea? Sì, io vado a Ferrara, Penso, Architettura, Saratosta, pure dopo gli esami, per il testo a missione. Io faccio prova interaio a tecnico di laboratorio biomedico e se non riesco a superare i testi inizio a fare biologia, faccio qualche esame e poi ricomincio, riprovo l'anno prossimo. Invece credo di fare giurisprudenza dopo, andiamo pure a me. Avvocato o magistrato? No, vorrei fare il giornalista. Come fate voi? Quella dei reality di Andy Warhol anche perché io farò uno spettacolo proprio sul mondo dei reality che disprezza questo mondo dei reality perché comunque la gente è disposta a tutto oggi per fare successo. Mentre prima bisognava studiare e studiare tanto per essere qualcuno. Mentre adesso basta che giri un video col telefonino e lo metti su internet e siano a stare. Andrò quella sul mangiare che era più anche... Siamo quello che mangiamo. Sì, anche perché siamo più attenti alle diete, a quello che mangiamo. Sì, è una traccia molto attuale. Programmi per l'estate dopo quest'ultimo tour de force? Mare profumo di mare.